con la faccia questo è come si chiama questo film? un vistola, un vistola siamo sul numeristola, sul braghetto che stiamo facendo il cibo questo è tutto un paesaggio circostante siamo partiti presto, abbiamo fatto le foto abbiamo visto il giro di 30 minuti siamo quasi a buon punto tanti intrappi, vedremo altre cose ci vediamo bene e quando cazzo adda, ci faccio da qualche anno ci fanno il dibattito com'è? l'ombre il primo il primo questo è un barco della Tocinieta devi andare a questo oh mio gosie non? Grazie. 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 Dzięki. Weźle. Wаж pleśni. Do embargo. Paś w porządку. Non c'è l'amma. Ah, però si vede. Non c'è l'amma. Non ho fatto come per esempio un dottor. C'è l'amma. Grazie